dice il signore forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti il signore ti annuncia che farà a te una casa in questa quarta domenica di avvento la parola di dio offerta dalla prima lettura ci presenta un episodio della vita del re davide quando ormai davide ha raggiunto un certo successo sconfiggendo i suoi nemici pone in campo il progetto di fare una casa a dio dopo che la presenza del signore aveva vissuto sotto le tende con il popolo davide vuole creargli un tempio una dimora adeguata ma il progetto di davide in fondo è la grande tentazione dei credenti relegare la presenza di dio dentro dei confini precisi non solo murari che limitano la sua infinita libertà il signore non ci sta però a farsi rinchiudere in uno spazio angusto nei confini precisi stabiliti dalla re di israele ribalta completamente il progetto di davide mostrandoci così la strada per una relazione vera con lui non incastrarci nella ripetizione delle cose già sapute per incontrarlo non frequentare solamente i luoghi abituali dove pensiamo di poterlo trovare la sua libertà è infinita e infinite sono le possibilità di incontro con lui è questo che la risposta di maria di nazareth all'annuncio del messaggero ci fa intuire come è possibile come avverrà questo dio sceglie sempre la strada dell'impensabile per venirci incontro sorprendendo così la nostra esistenza